Grazie Grazie di questa accoglienza siete veramente in tanti Io vorrei forse fare una premessa non molto lunga però qualcosa la vorrei dire perché questa vicenda che mi è capitato mi ha fatto riaccendere un file che avevo tenuto nascosto per tanto tempo io anche nella mia campagna elettorale non avevo tanto parlato dei miei primi 15-20 anni nelle istituzioni che sono stati belli ma anche molto sofferenti e mi ero riproposto di iniziare gli altri 40 anni questa vicenda mi impone di dover fare questa premessa perché io credo che i cittadini almeno se questo è l'obiettivo di un incontro come questo e come tanti che sto facendo devono anche capire di che stiamo parlando che è qualcosa di molto più grande appunto rispetto a una gestione di una città dove ognuno è giusto che abbia le proprie idee che possa avere anche le posizioni più dure e più critiche ma adesso su questa vicenda la partita è più grande la prima cosa vorrei rispondere alla signora che prima mi diceva affettosamente vinceremo o perderemo se io avessi fatto 20 anni fa queste valutazioni quando facevo il magistrato e mi trovavo di fronte a un fascicolo che il fascicolo in genere per capire se ci sono reati gravi devi scavare e io mi rendevo conto che più scavavo se facevo una valutazione di opportunismo mi conveniva non scavare perché più scavavo peggio era quindi io non le ho mai fatte e poi un mio amico che è diventato amico nel periodo diciamo in cui sono stato sotto attacco a Catanzaro un magistrato siciliano di Catania quando fui trasferito dal CSM per la vicenda nota lui mi scrive una cosa che non ti vendico mai che mi torna attuale hai perso ma non ti sei perso che è una frase secondo me molto bella quindi io credo che uno non deve perdere la strada anche se certe volte si hanno delle sconfitte poi un altro invito io veramente sono tre anni ma mi porto dietro anche le campagne di disinformazione e delegittimazione quando facevo il magistrato invito a non leggere quello che c'è non legge non dare almeno quando le portano l'altro giorno ho dovuto leggere sul mattino di Napoli addirittura sulla pagina nazionale che io mi stavo per dimettere quando io ho detto forse anche fino alla noia che non mi dimetto quindi si leggono delle cose tenete presente voglio dire anche qua io non mi dimetto ma non mi dimetto che non perché sono legato alla poltrona perché la poltrona è sconveniente non mi dimetto perché la dimissione è un atto se io rubo, se io faccio una cosa sbagliata se io tradischi i miei rettori la dimissione è un'altra cosa invece siccome e vogli riaffrontare il tema della legalità e della giustizia diciamo un'altra cosa se io non sono o non sono un uomo delle istituzioni cominciamo da qua perché Raffaele Cantone col quale siamo scambiati affettuosi messaggi dice tu hai usato quel giorno dei toni troppo duri allora veniamo dai toni io ho prestato giuramento il primo dicembre del 1995 vengo da una generazione la famiglia di mio padre sono quattro generazioni magistrate quindi io sono un uomo delle istituzioni però dal primo giorno non vuoi venire dal primo ma dopo due o tre mesi che sono entrato nelle istituzioni ho capito subito dove stavano i nemici pericolosi e dove stavano i nemici che possono essere pericolosi ma che non sono un cancro io i problemi li ho avuto soprattutto dall'interno delle istituzioni e queste cose io le ho sempre denunciate ma non pensate che sia solo un fatto di politica magari se fosse solo politica il politico che non ti piace alla fine il popolo lo riesce anche a spazzare via vedete che è successo con Grillo in parto che può succedere con la mia elezione insomma il cittadino alla fine riesce ad avere in qualche modo uno strumento invece il livello di penetrazione dell'inquinamento delle istituzioni io l'ho verificato lavorando facendo il magistrato nove anni in Calabria e sei anni a Napoli che la corruzione e l'infiltrazione mafiosa è arrivata in pezzi significativi delle forze dell'ordine, dei servizi, degli apparati burocratici, della stessa magistratura e siccome non mi hanno mai perdonato questo fatto anche che io ho scavato anche in quella direzione il tema nasce sostanzialmente da lì allora io anche oggi a 47 anni non voglio farla lunga io mi chiedo se mi sento ancora in uno delle istituzioni e vi racconto un fatto familiare tre passaggi di mio figlio Andrea che oggi ha 14 anni io e mia moglie e mio figlio Andrea nel momento in cui io stavo sotto pressione pesante era una pressione istituzionale ma c'era anche l'oppressione militare cioè che mi potessero fare anche fuori ero scortato, ero scortato diciamo pesantemente a mio figlio non gli dicevamo se anni e mezzo è conveniente magari evitare poi mio figlio non parla tanto ma un giorno con la macchina blindata mentre andavo a accompagnare la scuola lui mi dice a freddo papà ma è vero che un giorno di questi ti ammazzano e ho detto Andrea ma che dici? mi dice ma l'ha detto un compagno di classe ma da quel giorno ho capito che ai figli è meglio raccontare la verità un anno e mezzo dopo lui aveva otto anni seguiva di più stavamo nel pieno del casino Mastella, le inchieste insomma non la voglio fare lunga lui mi chiede dice papà ma perché ti hanno trasferito? adesso quindi non ci vediamo più e cioè mi hanno trasferito e racconta un po' perché papà ha fatto il suo dovere lui giustamente ha detto papà ma come funziona? cioè se uno fa il suo dovere viene trasferito e io lo racconto poi abbiamo parlato qualche altra volta l'altro giorno qualche giorno fa e ha detto papà scusami ma tu poi sei stato sospetto? cioè tu già magistrate mio figlio è detto ma scusa tu dici sempre che devo avere fiducia nelle istituzioni perché io gli dico sempre questo non ti preoccupare perché nelle istituzioni poi prevale il bene rispetto al male più o meno queste storie qua ma di tuo papà però non lo so ma c'è 14 anni ha visto il padre non è che ha visto storie sui giornali o storie in televisione qui il tema è molto serio è come se c'è un cancro e tu vai dal dottore e il dottore non dice che è un cancro noi dobbiamo dirle queste cose pensate che io ho sostanzialmente la mia attività di magistrato poi devo dirlo ho anche ringraziato con un messaggio l'altro volta Marco Travaglio in modo impeccabile in dieci minuti ha detto io una storia come questa non l'ho mai vista io ho subito il più alto numero di interrogazioni parlamentari credo ho avuto circa 70-80 interrogazioni parlamentari di tutto l'arco costituzionale centinaia di parlamentari ispezioni ministeriali che sono durate non meno di 5-6 anni di interrottamento qualcosa come 60-70 procedimenti penali procedimenti disciplinari procedimenti di ogni tipo mi hanno svuotato come un calzino la magistratura di Salerno ha indagato perché su Catanzaro indagava Salerno per anni nei confronti e atti giudiziari che io adesso ho iniziato a pubblicare sul blog se qualcuno ha la pazienza se li vada a leggere non solo hanno testimoniato l'assoluta correttezza del mio operato ma che ero vittima di una campagna di delegittimazione valugno, ostacolo e quant'altro quando questo pool di magistrati io nel frattempo ero stato trasferito con un trasferimento lampo hanno fatto un atto giudiziario in cui hanno evidenziato all'esterno quello che avevano scoperto un procuratore alla Repubblica un pool di magistrati sono stati trasferiti anche loro non esiste nella storia giudiziaria nel nostro paese dove un magistrato viene trasferito su richiesta del Ministro della Giustizia coinvolto in alcuni fatti di quell'indagine in cui era iscritto era indagato il Presidente del Consiglio che aveva nominato quel Ministro della Giustizia e il Ministro chiede il trasferimento del magistrato che indaga sul Presidente del Consiglio io farei fatiche in una Repubblica in uno Stato Centroafricano a vedere una cosa di questo tipo quindi lo scenario è un scenario devastante oggi abbiamo ripubblicato l'intercetto oggi qualche giorno fa di un magistrato non di un mafioso ma se qualcuno di voi si è ascoltato l'intercettazione telefonica dell'ex Presidente Regione Calabria ma non mi interessa tanto il Presidente da Regione Calabria quello era il procuratore generale di Catanzaro di Reggio Calabria era il mio capo che lui sapendo di essere intercettato fa un messaggio che è mafioso cioè lui dice ha rotto talmente le scatole la sua azione è stata pesante che quando scatterà la reazione sarà adeguata non lo ammazzeremo ma lo costringeremo per tutta la vita di fede gli intrecci di quelle inchieste sono intrecci che hanno toccato i fili alti del sistema purtroppo di persone che stanno ancora oggi ai vertici delle istituzioni ma vogliamo fare qualche nome giusto per parlare Mancino trattativa stato mafia Mancino è imputato e presiedeva il mio processo del Consiglio Superiore della Magistratura insieme a magistrati di cui che erano legati ad altri magistrati che erano indagati il mio processo dura due mesi Mancino non mi ha guardato manco negli occhi quando ha letto la sentenza e pensate che il procuratore io vengo trasferito sapete perché? io vengo trasferito perché non avviso il mio capo perché i miei capi non mi aiutavano perché avevo mandato un'informazione di garanzia al coordinatore regionale di Forza Italia senatore avvocato del mio procuratore e nel cui studio guarda caso cinque mesi prima nel pieno dell'inchiesta aveva assunto il figlio io non lo avviso e sai che mi dice il Consiglio Superiore della Magistratura no tu lo dovevi avvisare e poi lui si doveva astenere e quando il procuratore generale d'udienza ex presidente della regione Marche PD legato a persone su cui indagavo durante la requisitoria dice tra i vari passaggi Magistris va accacciato perché non è il modello non ha informato il procuratore non ha fatto poi dice per carità lavora è un gran lavoratore è un gran lavoratore anzi lavora troppo ma è tessuale cioè sono lavora che interpreta il suo lavoro come una missione allora io mi giro davanti al mio avvocato dice sanno ma si mette bene dice no no si mette male cioè io vengo praticamente viene sostenuto come fatto di disvalore da un magistrato della Repubblica che io lavoro troppo guardate io mi viene di parlare perché io questa cosa l'avevo rimosse però ovviamente quando poi ti prendi una condanna per abuso d'ufficio non patrimoniale su fatti già archiviati a Salerno io vorrei dire questa cosa Salerno fa 70 procedimenti penali perché Salerno? cioè c'è qualche giurista sa se non ci sono giuristi o lo dico ai non giuristi codice di procedura penale l'articolo 11 dice cioè che ogni distretto di corte d'appello ha precostituito per legge come giudice naturale un altro distretto che indaga su quei magistrati per esempio se i magistrati di Napoli indaga Roma se i magistrati di Garanzaro indagano a Salerno solo un procedimento guarda caso viene mandato a Roma dopo che Salerno aveva dimostrato la mia correttezza e messo sotto processo i miei capi per corruzione in atti giudiziari un processo che è ancora in corso molto lungo che dura da 4 anni questo procedimento stranamente va a Roma perché individuano la sede di competenza a Roma saltando l'articolo 11 perché la sede del Parlamento il procedimento il magistrato che trasmette gli atti a Roma è imputato per corruzione in atti giudiziari e guarda caso lo portano a un magistrato io non la voglio fare lungo però sono cose importanti Achille Toro coinvolto per fatti di corruzione nell'Indiesta sul Bertolaso sul G8 questo si prende e comincia l'indagine su di me allora a me mi si contesta che io avrei preso delle utenze di parlamentari sapendo che quelle utenze sono di parlamentari siccome faccio l'ipotesi che io sono la più schifezza di magistrato della Repubblica italiana lo sanno tutti che i parlamentari hanno questo privilegio possiamo essere d'accordo o non d'accordo hanno il privilegio vi pare che se io so che mi devo prendere il tabulato suo che è parlamentare lo faccio sapendo che chiaramente vengo scoperto perché non è una prova che puoi mettere sotto al cassetto prendo un tabulato evidentemente vuol dire che prima o poi quello dovrò usare quel tabulato quindi qualcuno mi scoprerà e mi condannerà e come dire uno che vuole andare a rubare la marmellata chiama polizia carabinieri guarda di finanza alle 19 venga a rubare la marmellata alla Conad di via Belvedere fatti trovare così mi arrestate ed è una follia c'è quello praticamente il mio consulento un vice questore della polizia di stato che tra l'altro ha fatto anche stato tra le varie cose poliziotto che ha indagato anche sulle stragi di Capaci questo mio consulente mi fa dice guarda dottore noi siamo entrati noi stavamo praticamente avevamo individuato in qualche modo una rete occulta che governava di fatto pezzi di istituzioni c'eravamo scoperto che c'erano personaggi dello stato istituzioni uomini di governo parlamentari magistrati uomini dei servizi insomma molti stanno ancora lì che si riunivano in posti che non erano quelli delle istituzioni prendevano le decisioni poi andavano nelle istituzioni e le formalizzavano ecco perché poi arriverò nel concludere nel passaggio del rapporto tra legalità formale e giustizia a un certo punto lui mi dice noi abbiamo dei contatti di persone con l'associazione a delinquere su cui stiamo lavorando non sappiamo chi sono dobbiamo andare a acquisire i tabulati quindi lui mi fa un elenco di utenze da acquisire decine e decine e decine di utenze il magistrato faccia il decreto acquisiamo lui va presso i gestori delle telefonie mobili Team Vodafone e altri scopre che alcuni sono dei parlamentari non era manco facile perché in realtà erano interessati a prestanomi per esempio quello di Prodi era interessato a Delta S.P.A. quindi non è che Delta S.P.A. potevi sapere come mi comunica che sono dei parlamentari io mi fermo attivo la richiesta di autorizzazione al Parlamento e l'inchiesta mi viene avvocata da Torcino Faro quindi oggi vengo condannato perché mi dice che io avrei dovuto sapere non so in base a quale elementi che quelle utenze erano di parlamentari allora il tema legalità formale giustizia è il dramma di un uomo delle istituzioni perché nei miei confronti non hanno usato mai proiettili come dire militari di fucili o di pistole hanno usato proiettili istituzionali perfettamente legali nella forma quando mi hanno trasferito non è che mi hanno trasferito mano militari hanno fatto un provvedimento disciplinare con tanto di carta da bollo quando hanno trasferito perché tutti quelli che hanno collaborato con me hanno tutti pagato testimoni ufficiali di polizia giudiziaria tutti addirittura quei pochi giornalisti perché quella è un'altra categoria su cui bisognerebbe soffermarsi quei pochi giornalisti coraggiosi hanno pagato pure loro i magistrati di Salerno polverizzati il procuratore della Repubblica di Salerno viene sospeso dalle funzioni e trasferito perché ha messo un visto su un provvedimento giudiziario che il pool dei magistrati di Salerno aveva messo nei miei riguardo quindi quando arriviamo io potrei parlare fino a stanotte ma vi assicuro che non lo faccio cioè quando arriviamo a questi livelli è chiaro che loro mi stanno come dire inseguendo da tempo poi questo si va a saltare ovviamente con l'attività di sindaco oggi o perché di fronte a questa tragedia personale che ovviamente è nulla rispetto a altre tragedie che magari sono molto più gravi ma io la vivo come una tragedia personale perché io ho vinto il concorso di magistratura ho fatto quindici anni il magistrato ho lavorato mia moglie che sta qua lo sa mai meno di quattordici quindici ore al giorno non ho mai pensato che mi avessero dato una medaglia mi sono mi hanno strappato la toga di pubblico ministero mi hanno trasferito mi sono reinventato una nuova cosa ho cercato di fare il sindaco e continuerò a fare il sindaco con lo stesso spirito di giustizia e devo dire quello che che l'effetto collaterale positivo di questa vicenda è che secondo me la maggior parte delle persone hanno capito il livello in cui ci siamo trovati perché Marcello prima lo ricordava facendo dei riferimenti con l'attualità anche nella vicenda di Bagnoli voi l'avrete notato che io non ho fatto una denuncia generica io nella vicenda di Bagnoli ho fatto nome e cognome di chi sta mettendo le mani sulla città e l'atteggiamento di certa stampa nei miei confronti cambia quando io emetto sette mesi fa un'ordinanza con cui ordino a Fintecna chi è Fintecna? è Cassa Depositi e Prestiti chi è Cassa Depositi e Prestiti? lo Stato Cementir chi è Cementir? Caltagirone chi è Caltagirone? un costruttore proprietario di cosa? del mattino 200 milioni di euro il Tarre del Consiglio di Stato mi dà ragione non c'è nessun sindaco d'Italia che ha fatto un ordinario e ovviamente quelli non sono venuti da me mi hanno detto bravo sindaco quasi bravo lo Stato il Presidente del Consiglio 200 milioni un grande successo per la città allora io dico sui giornali attenzione con lo sblocca Italia che fanno il 29 agosto dopo che Renzi era venuto il 14 agosto a firmare un atto in cui diceva metto i soldi per le bonifiche e facciamo insieme Bagnoli si rimangia completamente tutto il 29 agosto fa un decreto in quale dice il Comune scompare scompare il Comune non deve avere più nessun potere chi decide su Bagnoli un commissario il soggetto attuatore Fintecna cioè chi è inquinato rientra esce dalla finestra e dalla porta perché accade questo? perché i privati e Fintecna i privati in quel caso i costruttori hanno inquinato non i privati in generale hanno detto noi li mettiamo i soldi ma non vogliamo il Comune non lo vogliamo riferito a me vogliamo avere mani libere no quando tu fai queste cose qua e le dici tu vai a toccare interessi chi ci sa chi ha inquinato l'ha inquinata la Camorra c'è Divizia non è che hanno inquinato gli scubizi di strada ma ora si stanno saldando come sempre hanno fatto gli interessi perché qualcuno mi dice tu si toni duri io ho detto sicuramente alcuni toni sono pesanti ma per quello che ho subito nel corso di 20 anni io neanche posso pensare che sono toni da chirichetto perché arrivato a 47 anni lo Stato dovrebbe dire ma questo come mai continua a essere uomo delle istituzioni? infatti la partita che loro utilizzano io lo so perché me l'hanno detto noi ti molliamo appena tu ti ritiri a vita privata fin quando tu sarai un uomo pubblico il nostro obiettivo è distruggerti come uomo e come uomo delle istituzioni non tutto lo Stato però questi che ti inseguono sempre e del resto l'hanno detto in quell'intercettazione telefonica non mi perdonano che ho fatto 80 verbali davanti alla magistratura io non ho mai fatto accuse in televisione che io non voglio fare pubblicità per fare io non sono mai andato in televisione fino al 2007 io sono andato in televisione nel 2007 dopo che mi hanno spugliato di tutte le inchieste dopo che mi stavano ammazzando e per fortuna che qualcuno si è ricordato che c'era quel magistrato a Catanzaro ma secondo voi prima di andare in televisione non avevo scritto a Napolitano non avevo scritto al Consiglio Superiore della Magistratura non mi ero rivolto ai magistrati di Salerno 80 verbali voi pigliatevi un magistrato della Repubblica italiana che ha fatto 80 verbali a una procura della Repubblica dove c'è mezzo paese sono persone che sono state ai vertici dei servizi segreti persone che stanno ancora oggi ai vertici della magistratura nel Consiglio Superiore della Magistratura come i miei ex colleghi quando io dicevo le correnti in magistratura che si riappropriano nel Consiglio Superiore della Magistratura e decidono in base all'appartenenza alle correnti ho detto io ho vinto il concorso in magistratura non ho vinto un concorso che sta in una corrente quella è politica è un'altra cosa se io mi metto in un partito queste cose non te le perdonano io lo dico anche ai miei colleghi magistrati e mi scrivono i messaggi vai avanti hai ragione è una vergogna ma perché non lo dici pubblicamente? perché non vi schierate? Calamandrei diceva un'altra cosa i magistrati corrotti ne ho conosciuti pochi ma quanti ne ho conosciuti conformisti ammagalati di agorafobia quelli che prevengono le raccomandazioni prima ancora non si schierano si schiera di più il popolo guardate questa è una cosa bellissima che sennò sembra che faccio un quadro devastante in Calabria centomila calabresi quando Bastella chiese il mio trasferimento firmarono per farmi restare in questi giorni ho ritrovato un entusiasmo perché nel vedere gli occhi di persone che magari non contano niente cioè sono persone normali hanno capito il potere invece tutto quanto dalle istituzioni la magistratura poi incontri incontri un amico procuratore vicino al tre vai avanti vai avanti questi sono bastanti vai avanti lasciarci capiti vai avanti questo piano mi ha ammazzato da vent'anni cioè sono piano ammazzato da vent'anni cioè fino a quando le devo pigliare cioè questo è un tema che non riguarda Luigi De Magistris guardate me lo disse l'ho detto in televisore il benzinaio di Castrovilla non lo posso mai dimenticare alle 11 di sera con la mia macchina mi fermai a fare il benzina stavo a fare i viaggi della speranza tra Catanzaro e Salerno quando mi interrogavano i magistrati io andavo da solo perché mi avevano tolto pure nel frattempo la tutela mi avevano tolto tutto eccetera andai là quello si fermò mi guardava è lui non è lui mi disse guarda sono io si vise un po' a parlare mi disse tutto sono quelle frasi sapete perché è gravissimo quello che le hanno fatto non per lei perché lei è magistrato ha messo in conto che la potevano fare a noi perché noi abbiamo espresso chiaramente la volontà che lei non doveva essere trasferito che abbiamo avuto fiducia nello Stato che lei ci ha detto che dovevamo testimoniare ci ha aperto le porte la gente cominciava ad avere fiducia persone che avevano non potevano testimoniare hanno fatto una cosa grave a noi perché non ci hanno calcolato noi ma voi sapete come i pezzi di magistratura plasticamente in Calabria si muovono vanno nei ristoranti non posso mai dimenticare uno dei GIP più importanti di Catanzaro il giudice per le indagini preliminari si presenta una sera in un ristorante insieme al marito a un costruttore di Catanzaro alla moglie nulla di grave se non che tre giorni prima quel GIP in un procedimento molto delicato l'indagio che lo fa aveva assolto quel costruttore e vanno nel miglior ristorante di Soverato perché la gente di Soverato la gente di Catanzaro ha da sapere che non bisogna denunciare il tema che la magistratura in Calabria al 50% ha lavorato per farmi fui poi c'era un 20% onesta è nata fetta che non si schierava questo è il tema mi hanno trasferito a me perché non ho avvisato il procuratore della Repubblica e mandava un'informazione di garanzia al suo avvocato dove aveva assoluto cioè questo tema non è che la magistratura dopo anni ha fatto autocriti io c'ho un'istanza là perché io spero sempre che prima o poi possano rivedere quel processo io c'ho un'istanza là io spero un domani che ne so io vorrei ritornare magari ritornare in magistratura perché ho vinto quel concorso e non ho fatto nulla di male allora perché vi ho voluto fare e potrei continuare una premessa lunga perché vorrei che i miei concittadini i miei amici ma anche i miei avversari politici che mi stanno stringendo la mano in questi giorni dicendo guardi io non ti ho votato se ti ricandi non ti ho voto ma tu non ti devi perché ti prende la porcheria quello che ti hanno fatto che tu oggi sei il sindaco di Napoli non te ne devi andare io vi invito a guardare in profondità perché la partita è grande se vogliamo parlare dei problemi di Napoli io dall'altro adesso sarò sindaco di strada no, io posso fare una domanda no, voglio solo finire un'altra cosa cioè sindaco di strada ho deciso che anche se mi sospendono se fanno la sospensiva della sospensione continuerò a fare il sindaco di strada vorrei che si capisse questo tra un minuto possiamo parlare di tutti i problemi della città e io sono molto contento di farlo perché noi abbiamo avuto anche un problema di comunicazione e di incapacità nostra a comunicare tutto quello che abbiamo fatto però vorrei che si capisse un tema che a Napoli c'è un sindaco libero oltre che persona per bene e su questo sfido chiunque a dimostrare il contrario libero e io credo che una città come Napoli che abbia comunque un presidio di fronte a una persona che in questi tre anni ha subito ogni tipo di tentativo per cercare di inserirsi in una partita politica magari anche prospettando il miglioramento della situazione come dire politica della città ma io ho detto no perché sapevo perfettamente quali erano gli interessi allora io ho sbagliato sicuramente perché preso dal lavoro dagli impegni dal lavorare 18 ore al giorno da quel manicomio del comune di Napoli non sono riuscito a comunicare bene alla città quello che stavamo facendo e i pericoli che c'erano e questa è un'autocritica sincera e profonda che faccio probabilmente per molti mesi anche qualche concittadino e fino anche qualche mio amico non ha capito fino in fondo che cosa significava fare il sindaco libero a Napoli dopo quello che avevo rappresentato da magistrato allora oggi forse quello che bisogna rinsaldare e chiudo questa prima parte è un patto reciproco perché se si lascia solo una persona io posso domani anche non essere più il sindaco di Napoli ma sicuramente una sconfitta di tutti perché poi alla fine io sono stato democraticamente eletto e nello stesso tempo io devo maggiormente restare per sempre in contatto con voi perché avendo scelto io di non fare legami con un certo tipo di potere se io non rimango agganciato alla moltitudine delle persone per bene è chiaro che diventa una sconfitta mia ma diventa anche una sconfitta delle persone che hanno creduto in me e che magari non riescono a comprendere o non si riesce a capire bene insieme come si può fare per rimanere uniti in questi giorni dalla rete di rapporti spontanei che sto creando come stasera devo dire ho percepito che si sta comprendendo che la partita è una partita alta e che Napoli tra mille problemi mille difetti e mille lacune rappresenta una tipicità in questo momento nel panorama nazionale perché io sono un sindaco senza partiti sto fuori dagli schemi nazionali non sono isolato come qualcuno ha voluto far credere perché ho cercato di creare rapporti ma se per isolamento significa che faccio patti con chi vorrebbe fare delle cose su cui io non sono d'accordo allora se parliamo in quel caso sono isolato è un'esperienza sicuramente che può essere da stimolo per tanti giovani che un domani volessero insomma candidarsi a fare il sindaco cioè che si può fare anche rimanendo fuori dagli schemi di partito quindi il mio impegno che prenderò nei prossimi giorni nei prossimi mesi fino alla fine del mio mandato è di stare di più per strada raccontare meglio le cose che si fanno ascoltare di più sicuramente fare autocritica ma anche far capire alla città quante cose in questi tre anni abbiamo fatto probabilmente raccontare anche gli ostacoli che abbiamo avuto e raccontare meglio i difetti e le manchevolezze e chiudo proprio su questo i beni comuni la democrazia partecipativa di cui parlava Marcello prima quello credo che sia stato uno dei principali difetti che noi abbiamo non siamo riusciti a creare quel rapporto forte di compartecipazione con i nostri concittadini lo doveva fare Alberto Lucarelli io me ne sono disinteressato perché mi sono occupato di altro forse il modo migliore per continuare l'esperienza di sindaco di strada è quello di farmi io portatore nei prossimi mesi di tutto questo sia con le municipalità ma anche direttamente con i cittadini e a me fa piacere se voi nelle prossime settimane abbiate la voglia tra i mille impegni che tenete a farvi un'idea un po' più approfondita di quella che è stata la mia esperienza di magistrato e probabilmente collegarla a tanti fatti che stanno avvenendo nel nostro paese in questi mesi e quello che sta avvenendo anche nella città di Napoli perché il tema è tutto interno alle istituzioni io credo che sia un fatto necessario che i cittadini più interessati e sensibili lo facciano perché altrimenti se si rimane alla superficie della vulgata dei giornali e dell'informazione non si comprende sostanzialmente nulla se si leggono quelle carte ognuno si potrà fare un libero convincimento e capirà probabilmente qual è la partita che si sta giocando nel paese e in particolare a Napoli in questo periodo la domanda è a questo punto la domanda è che ho sentito sempre molto legnante risposta e quello che mi interessa sapere e le mie mesi non ho pensato che che non la non 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 ma non non Grazie a tutti